Un cordiale saluto a tutti voi che siete in ascolto. Oggi è sabato 20 febbraio, ho qualche minuto di tempo e desidero parteciparvi a una riflessione che il Signore ha posto sul mio cuore. È una riflessione riferita ad un argomento che ritengo molto importante e molto pericoloso allo stesso tempo. Ora parlo del tema dell'ecumenismo o la piaga dell'ecumenismo, chiamiamola un po' come vogliamo. Io credo che sia più una piaga che un argomento. Quando parlo di ecumenismo non mi riferisco a quello che insegna il Papa e non mi riferisco neanche a quello che insegna la religione cattolica. Mi riferisco di ecumenismo nell'ambiente cristiano evangelico. Qualche mese fa ho avuto modo di ascoltare uno stimato fratello, e non è solo, ce n'è più di uno, che predicavano sull'importanza dell'unità. Predicavano sull'importanza di essere uniti nell'amore del Signore. Uno di questi disse, dobbiamo togliere tutto ciò che ci divide e dobbiamo unirci nell'amore del Signore. Ora, se ciò che ci divide è il frutto della carne, l'orgoglio, le invidie e le gelosie, sono d'accordo. Bisogna toglierle via, bisogna eliminare questo frutto della carne e unirsi nell'amore del Signore. Un'altra sorella pubblicava un post dove scriveva che la causa delle divisioni è sempre la carne. Allora, avendo ascoltato questi insegnamenti, avendo letto qualche post di questo tipo, ecco, è nato in me il desiderio e lo stimolo di fare questa riflessione. Da una parte ho ascoltato che bisogna togliere tutto ciò che ci divide e unirci nell'amore del Signore. Da un'altra parte ho letto che ciò che ci divide è sempre la carne. Allora mi sono fatto qualche domanda. Ma è proprio vero che ciò che ci divide è sempre solo la carne? Ed è proprio vero che dobbiamo togliere tutto ciò che ci divide a prescindere e unirci nell'amore del Signore? La domanda che vorrei farvi è questa. Innanzitutto credo che non sia vero che ciò che ci divide è sempre la carne. Molto spesso ciò che divide è la verità. La verità è una spada che tante volte crea delle divisioni. Il Signore Gesù stesso disse che non era venuto a mettere pace, ma a mettere una spada, a dividere il padre dal figlio, a dividere la nuora dalla suocera, e quindi a portare delle divisioni, perché la verità è causa di divisioni. Quindi non è vero che solamente la carne crea delle divisioni. Se è il frutto della carne a dividerci, bisogna toglierlo. Ma se invece è la verità a dividerci, come bisogna comportarsi? Quando questi stimati predicatori insistevano nell'unirsi nell'amore del Signore, mai una volta ho sentito parlare della verità. Si è parlato tanto dell'importanza dell'amore, si sono citate le parole del Signore Gesù dove dice che da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Quindi si metteva troppa enfasi sull'amore e non mai sentito parlare di verità. Quando il Signore Gesù parlava di amarci, perché l'amore tra fratelli è la testimonianza visibile della nostra appartenenza al Signore, bene, bisogna ricordarsi che quando il Signore Gesù parla di amore, parla sempre di amore e verità insieme. La verità non si scosta mai dall'amore e l'amore non si scosta mai dalla verità. Quindi la domanda è, se a dividerci è la verità, cosa bisogna fare? Bisogna unirsi nell'amore del Signore e mettere da parte la verità? Questo qui si chiama ecumenismo. L'ecomenismo tende ad esaltare l'amore e a penalizzare la verità. Il vero amore cristiano, invece, non si divide mai dalla verità. Quando il Signore Gesù disse da questo riconosceranno che siete miei discepoli se vi amate gli uni gli altri, stava anche dicendo se camminate nella verità e camminando nell'amore e nella verità che riconosceranno che siamo sui discepoli. Quindi, quello che intendo dirvi è questo, che al giorno d'oggi girano sempre più post, locandine e messaggi dove si predica molto l'amore e quasi niente la verità. Quindi vediamo, fratelli, perché possiamo anche emozionarci di fronte a un messaggio che parla tanto d'amore. Un predicatore che parla per un'ora e mezza da un pulpito d'amore è un predicatore sicuramente apprezzato, un predicatore che sicuramente riceverà consensi da tutti, anche da quelli che non conoscono il Signore. Perché? Perché l'amore è un argomento sempre bello da ascoltare. Ma se è un amore senza verità, quello è un amore buonista, è un amore umano, non è l'amore di Dio. L'amore di Dio è un amore che cammina sempre insieme alla verità. Gesù è amore, ma allo stesso tempo egli è anche verità. quindi vegliamo, vegliamo perché sempre più spesso si tende ad esaltare l'argomento dell'amore e a mettere da parte la verità. Vogliamoci bene, amiamoci, perché il Signore ci comanda di amarci. È vero, ma il Signore non ha mai detto di amarci e penalizzare in nome dell'amore la verità. Anzi, la prima ad essere esaltata deve essere la verità, verità nell'amore. E molte volte questa verità divide, quindi non è solo la carne che spesso divide. Se è la carne a dividerci bisogna condannarla e toglierla, ma se invece è la verità cosa dobbiamo fare? Barattare la verità con l'amore? Assolutamente no. Il Signore Gesù nel Vangelo di Giovanni a capitolo 16 il versetto 13 dice che lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità. Vedete come il Signore Gesù proprio precisa tutta la verità. Quindi mai, mai allontanarsi dalla verità in nome dell'amore. Leggo spesso dei commenti, dei post che sono molto molto affascinanti dove si parla di amore e dove molti credenti mettono il like e sono d'accordo sì, dobbiamo amarci. È vero fratelli, dobbiamo amarci, ma sempre camminando nella verità. Guai a noi se in nome dell'amore mettiamo da parte la verità perché la verità è Gesù. Quindi se in nome dell'amore mettiamo da parte la verità significa che noi stiamo vivendo un amore buonista, un amore umano e abbiamo messo da parte il Signore Gesù. Ricordiamoci che la verità spesso divide e quindi se è la verità a dividere allora lì dobbiamo chiederci cosa devo fare? Abbandonare la verità in nome dell'amore o invece continuare ad amare nella verità? e come possiamo amare i nostri fratelli? Facciamoci questa domanda e arriviamo alla conclusione. Come posso amare i miei fratelli io? Proprio dicendo loro la verità camminando nella verità e spesso la verità brucia la verità fa male la verità spesso disturba a chi l'ascolta ma noi siamo chiamati a dire la verità sempre questo è il modo migliore per dimostrare amore ai nostri fratelli parlando sempre in verità e come possiamo amare gli amici del mondo che non sconoscono il Signore il Signore dice di amare i nostri nemici addirittura come possiamo amare i nostri nemici vi siete mai fatti questa domanda e per caso facendo loro del bene delle buone opere anche in qualche caso possiamo dimostrare anche amore facendo delle buone azioni ma qual è il modo migliore per dimostrare amore a coloro che non conoscono il Signore annunciare loro il Vangelo questa è la risposta come posso amare gli amici del mondo predicando loro il Vangelo e quando predichiamo il Vangelo che cosa stiamo facendo stiamo annunciando la verità quindi vedete che in tutti e due i casi come amare i fratelli parlando sempre loro in verità come amare gli amici del mondo annunciando il Vangelo quindi parlando in verità se l'amico del mondo ascoltando il Vangelo si converte abbiamo portato un'anima a Cristo se invece non ci ascoltano qual è la reazione secondo voi quando non ci ascoltano ci mandano via si allontanano da noi ci allontanano non vogliono avere a che fare con noi e quindi vedete che anche in questo caso ciò che ha creato la divisione è stata la verità quindi e concludo vegliamo vegliamo stiamo sempre attenti perché vedete il nemico le usa tutte fa leva sui nostri sentimenti sul nostro buonismo e in nome di questo buonismo cristiano e dei nostri sentimenti carnali umani tende a farci unire a darci l'illusione di essere uniti perché quando non è la verità unirci quell'unità è solo un'illusione e il nemico tende a far questo tende a far mettere da parte Cristo Gesù la verità e a farci unire in un amore sentimentale che nulla a che fare con l'amore di Dio quindi quando ascoltate dei messaggi che parlano tanto di amore 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 solo amore ecco piuttosto che emozionarvi e farvi catturare diciamo così da questo insegnamento analizzate sempre se la protagonista di questo amore è la verità se a farla da protagonista è la verità allora quello è vero amore se invece non è la verità allora quello è un amore ecumenico un amore che nulla a che fare con l'amore di Dio e quando ci dividiamo da qualcuno siamo divisi da qualcuno per questione di carnalità bene allora quelle vanno tolte subito sono d'accordo quando invece è la verità dividerci allora lì dobbiamo chiederci da che parte voglio stare dalla parte dell'amore buonista o dalla parte dell'amore di Dio che cammina sempre con la verità ognuno faccia nel suo cuore questa domanda e si dia la risposta che il Signore vi benedica e grazie mille per il vostro ascolto e per la vostra attenzione ricordiamoci sempre e concludo che l'amore e la verità non si dividono mai perché entrambe fanno parte di una persona meravigliosa che è il Signore Gesù egli è amore egli è la verità e quindi il Signore Gesù non lo possiamo dividere in due non lo possiamo mutilare solamente per dare diciamo così soddisfazione ai nostri sentimenti o alle nostre emozioni o alle nostre interpretazioni sbagliate il Signore Gesù non si divide mai egli è amore e verità ricordiamocelo sempre Dio ci benedica